Si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la presentazione della fase conclusiva del progetto Pescara Città da Mare che ha coinvolto oltre 100 giovani pescaresi. Il prototipo che portiamo oggi è comunque ancora in fase di elaborazione ma rappresenterà una web app turistica che noi doneremo alle istituzioni appunto al comune o alla regione affinché appunto si possa sponsorizzare la città di Pescara attraverso questa web app quindi che è visibile sia da computer che da telefono in cui noi abbiamo già iniziato ad inserire i luoghi più importanti della città con l'obiettivo di sponsorizzarla appunto appieno soprattutto verso i giovani quindi anche elencando una serie di eventi che sono stati svolti nella città quello che ha da offrire dal punto di vista turistico anche enogastronomico e appunto inserendo all'interno di questa web app anche tutte le immagini che noi abbiamo raccolto nel progetto durante il progetto appunto facendo vedere da dove nasce questa web app quindi dal progetto Pescara Città da Mare. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessorato alle politiche giovanili come spiega l'assessore Patrizia Martelli. Finalmente siamo alla fase conclusiva di un progetto molto ambizioso Pescara Città da Mare iniziato lo scorso luglio con la partecipazione di quattro associazioni del nostro territorio. Ricordo che questo progetto è stato finanziato dalla regione Abruzzo col cofinanziamento da parte del mio assessorato un progetto dove vengono messi in evidenza dei temi molto importanti e sono quelli del sociale, della tecnologia, del disagio ambientale ma soprattutto della lotta contro l'alcolismo e soprattutto la valorizzazione dell'ambiente.